La mia vuole essere una testimonianza appena sono tornato dall'Iraq dove ho incontrato le nostre comunità cristiane ma anche numerose altre comunità non cristiane che in questo momento vivono il dramma dell'essere state scacciate dalle proprie case, dalle proprie terre e che si trovano in condizione di estrema necessità. E' una testimonianza su che cosa il Santo Padre mi ha affidato e su che cosa io ho visto. Intanto il Santo Padre ha voluto che non fosse una missione diplomatica ma prima di tutto umanitaria e spirituale. E io mi sono ottenuto a questa dimensione perché mi sembra che rientrano pienamente nella missione spirituale di tutta la Chiesa e anche in quella che è la concezione che il Santo Padre ci dà quotidianamente attraverso le sue esortazioni, attraverso il suo modo di vedere e di concepire una Chiesa al servizio di tutti. Quindi essere lì con questi fratelli non era la mia personale testimonianza anche se ho passato tanti anni in questo paese, anche se ho condiviso in precedenza altri momenti difficili di sofferenze, ma voleva essere prima di tutto la testimonianza, la presenza del Santo Padre. Io ho sempre detto a tutti i nostri amici, fratelli nella fede, ai vescovi, ai sacerdoti, ai laici, alle persone, ho sempre detto in questo momento io sono gli occhi del Papa, le orecchie del Papa e la bocca del Papa. E questo è stato da loro molto apprezzato, prima di tutto perché subito davanti alle loro sofferenze qualcuno si è mosso verso di loro, secondo perché hanno potuto dire ciò che essi avevano nel cuore, quindi io le ho fatte mie e di queste ne ho riferito al Santo Padre. Terzo, perché ho potuto vedere ciò che i loro stessi occhi vedevano, le grandi sofferenze, le grandi difficoltà. E infine dare loro anche una parola a nome del Santo Padre perché la loro speranza non si spegnesse. Dovunque sono andato ho trovato molto affetto, molta stima, molto incoraggiamento anche per le difficoltà che io stesso ho dovuto sopportare, poi ma devo dire con piacere perché quando si condividono certe cose non si pensa ad altro. vivere nei loro campi, avere le stesse problematiche del caldo, della temperatura, dell'ambito ristretto in cui ci si deve muovere, della luce che c'è e che non c'è, della corrente che manca o di quando poi viene e va via, insomma tutte quelle che sono un po' i disagi di questa gente. Condividerle è stato anche molto utile per me. La gente in questo senso ha visto che insieme alla Chiesa locale, i sacerdoti, i vescovi e le suore religiosi che si sono subito fatti carico delle loro difficoltà, che hanno aperto tutti i loro centri, che non erano preparati per fare una cosa del genere per assistere tante persone, eppure tutto è stato fatto e viene fatto con molta generosità, con tanti limiti ma con molta generosità. Pensiamo per esempio al fatto che con una temperatura del genere non ci sono bagno, non ci sono docce. E' subito degli architetti che sono venuti per rimediare a questa grave situazione. Migliaia di persone, bisogna pur cucinare, bisogna pur dare da mangiare. Ci sono i bambini, ci sono gli anziani con le loro esigenze, ci sono gli adulti, ci sono gli uomini, le donne. Essere presenti in tutto e vedere che nella loro pazienza si mettevano in fila con il loro piatto aspettando di ricevere qualcosa da mangiare. Ecco, sono aspetti che naturalmente uno ha vivi nella sua presenza insieme a tanti altri. Ho visto dei bambini neonati da due giorni, con la mamma già in piedi che si occupava di questa sua piccola famiglia, con un altro bambino. Ho visto degli anziani, gli stessi per terra, che non so che cosa passasse nella loro mente, se non ricevere una carezza, una parola. Ho visto dei giovani medici che subito hanno aperto un dispensario ed erano a disposizione 24 ore su 24. Ho visto delle persone, c'era una ragazza per esempio in un campo che si è sentita male, è caduta per terra, l'hanno portata via e in ospedale gli hanno detto di una presenza, di un cancro che aveva bisogno di essere curato, per cui immediatamente abbiamo dato la nostra disponibilità a curarla, a prendercene cura. Queste sono tutte le cose che naturalmente uno sperimenta e la gente che viene vicino e ti dice che cosa devo fare con i miei figli. Hanno studiato ma adesso non possono fare l'esame di Stato, quella che noi chiamiamo la maturità, perché la scuola è stata interrotta. Perderanno un anno? Pensiamo un po' ai tanti bambini, i quali sono al tempo stesso coscienti e incoscienti, che pure bisogna, come dire, un po' mantenere viva la loro gioia, il loro stare insieme, quindi tanti giovani che si sono messi a diventare direttori di cori, oppure a fare dei piccoli spettacoli o dei giochi per intrattenerli. Ho visto una povera mamma che mi diceva, alla mia bambina è stato rubato persino i due piccoli orecchini, io direi più come sfregio che per il valore stesso in sé. Tutti commentavamo, ma il tesoro più bello ce l'è ancora tra le tue mani. E vorrei dire tante di queste testimonianze dei nostri cristiani, ma vorrei dire altrettanti anche da parte degli isidi, per esempio, da me incontrati, io li ho incontrati dovunque, sono andato in qualsiasi villaggio, in qualsiasi luogo, sia a Derbile, sia anche nel nord, a Zaku, a Madia, a Mangesh, e tutti questi villaggi, nella città di Deok, dovunque ho visto sempre i cristiani e gli isidi, quelli che erano nei campi, altri erano disseminati qua e là. Gente veramente povera, forse in questo momento i più poveri, perché mentre i nostri cristiani, tutto sommato, pur testimoniando la loro fede, hanno abbandonato le case, non hanno voluto pagare la gizza, cioè la tassa di rimanere, non hanno, non sono voluti convertirsi e quindi hanno preferito andare via, almeno non sono stati minacciati della vita, mentre gli isidi c'era solamente una duplicità, o ti converti o ti uccidiamo. Quelli che sono fuggiti, ovviamente, hanno avuto una lunga traversia di sofferenze, molti, molti sono stati anche quelli che sono stati uccisi. Mi impressionò un momento in cui, dopo aver visitato la comunità cristiana e la comunità isidi, in un villaggio proprio nel nord dell'Iraq, sono arrivati tre giovani. Erano tre giovani isidi e hanno detto della nostra comunità siamo gli unici che siamo riusciti a fuggire. Uno diceva dalla mia famiglia hanno preso 22 persone, un altro ha detto della mia 15 persone, un altro ha detto dalla mia famiglia forse 17-18 persone, ma in tutto erano oltre 200. Il giorno dopo abbiamo saputo che 70 di questi uomini sono stati uccisi e credo che le immagini sono anche in internet e chiunque potrà vederli, e delle loro donne non si sa più niente, forse violate, forse vendute, hanno detto, nei postriboli di alcuni posti a Mossulo e in altre parti. E anche lì altri racconti di suicidi dolorosissimi. una ragazza aveva detto, attraverso un messaggio che era riuscito a mandare, se il mio papà un giorno mi vedesse tornare, prego di uccidermi. sono stati momenti di grande sofferenza e credo che tocca a noi farci anche carico di queste sofferenze perché più volte i capi sidi, eh, Baba Sheikh, che sono andato a visitare e alcune altre persone anziane di alcuni villaggi ci hanno detto, per favore, siate la nostra voce, alzate per noi la voce. Io credo che tocca a noi, come il Papa Francesco ci dice, di farci carico sulle nostre spalle tutti questi fratelli e sorelle senza distinzione perché anche tra tanti fuoriusciti ci sono degli musulmani sciti ci sono degli shaba ci sono altre minoranze e questo è bello che il Papa non parla ne ha chiesto a me di parlare solo per i cristiani mi ha sempre detto prima di partire parli per tutte le minoranze per tutti i sofferenti e devo dire che da parte della suprema autorità del governo dell'Iraq il nuovo presidente Massoum ho trovato piena disponibilità a difendere i nostri cristiani a difendere le minoranze e altrettanto e con molta chiarezza mi è stato anche detto dalle autorità regionali del Kurdistan dal presidente al primo ministro a tutti gli altri componenti del governo compreso il governatore di Deok cooperazione mi hanno dato aiuto nel poter raggiungere tutti questi tutti questi villaggi tutti questi incontri tutte queste persone e mi hanno dato anche due mi hanno detto due cose molto belle la prima me la diceva proprio il presidente Barzani in questa terra noi siamo vissuti insieme o vivremo insieme o moriremo insieme e la seconda cosa che hanno detto noi siamo un mosaico e vorremmo che questo mosaico di convivenze di persone di culture di religioni continuasse a esistere e se un mosaico viene meno un sasso una pietra un tassello non è più prezioso come prima ed è destinato a sgretolarsi sono due immagini molto significative credo che i nostri cristiani e le stesse autorità a noi come chiesa non chiedono altro se non solidarietà affetto e incoraggiamento e io penso che questo attraverso la mia missione che era la missione del Papa l'abbiamo dato l'abbiamo dato l'abbiamo dato